Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo all'altoparlante che non è collegato al nostro sistema operativo quindi in questo caso facciamo fin da che il nostro dispositivo sia collegato, quindi è connesso il cavo al nostro computer, però sul nostro computer non è selezionato oppure non è attivo, quindi non funziona quindi in questo caso se ti ritrovi qua sotto su questo logo dell'altoparlante, a me funziona l'altoparlante, ma se a te c'è l'altoparlante con una X rossa sopra, vuol dire che l'altoparlante qua sopra è collegato al nostro computer, però è disattivato quindi andiamo direttamente su gestione dispositivi e andiamo direttamente su Input e Output Audio qui sopra gli altoparlanti, quelli connessi al nostro computer, se in caso c'è una freccia nera in giù vuol dire che quel dispositivo è disabilitato tasto destro sopra, abilita dispositivo, se non dovesse andare vai su controlli audio, video e giochi ed eccoli qua gli altri dispositivi audio, come puoi vedere quello che usate più è Realtek Air audio, questo qua e questo invece è il microfono quindi se c'è un triangolino giallo bisogna aggiornare i driver del nostro driver audio, quindi cerca driver nel computer e scegli da un elenco driver disponibili metti questo e fai avanti una volta aggiornato così il microfono che funziona, Realtek Out, tasto destro sopra, abilita dispositivo per l'audio se non dovesse andare andiamo direttamente su mmsys.cpl facciamo invio ti uscirà così il pannello audio, come puoi vedere, altoparlante, se c'è una freccia nera giù il dispositivo è connesso, però non è abilitato tasto destro sopra abilita, se invece c'è una freccia rossa in giù, vuol dire che questo qua è del mio monitor, quindi in questo caso io tengo connesso i cavi per vedere sul monitor lo schermo, quindi attaccato alla scheda video, però non ho i cavi per l'audio, quindi non è collegato, quindi non funziona questo qua quindi bisogna prima se non funziona il tuo dispositivo audio se non funziona il tuo pc e c'è ancora la freccia nera giù scendiamo fino a trovare il servizio plug and play ci clicchiamo sopra tipo di avvio automatico metto sempre automatico questo stato del servizio che è in esecuzione se a te non è in esecuzione fai avvia, fai applica, fai ok e metti automatico e chiudi qua per altri problemi ancora c'è una bella lista piena di tutorial su come risolvere i problemi dell'audio più di 15 tutorial per risolvere i problemi del driver audio e molto altro quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao